Alle mie spalle c'è una delle grandi novità della Lamborghini per la stagione 2019, sarà una delle grandi protagoniste dei campionati internazionali che riguardano la GT3 e soprattutto avrà un obiettivo, quello di portare a casa il titolo più prestigioso di questa categoria che è quello relativo al campionato Black Pain. Sono qui con due tra i grandi protagonisti del mondo Lamborghini, alla mia destra Mirko Bortolotti, non ha sicuramente bisogno di presentazione, è andato un pelino da diventare uno dei grandi piloti di Formula 1, poi per le vicissitudini della vita è passato alle ruote coperte, ma non ha deluso sicuramente le attese. E alla mia sinistra c'è Marco Mapelli, l'uomo dei record del Nürburgring, grandissimo ex collaudatore della Pirelli per quanto riguarda le gomme alte di high performance e attualmente grandissimo protagonista con Lamborghini nei campionati giapponesi. Allora ragazzi, qui avete la creaturina che guiderete l'anno prossimo, avete già fatto alcuni test di evoluzioni, Mirko ci sono tantissime novità, esteriormente forse l'occhio non abituato non può notarle, ma l'aerodinamica è completamente differente, vuoi spiegarcela? Sì, certo, come hai già accennato, questa è la nostra nuova bimba, l'Hamborghini Huracan GT3 Evo, come già lo dice il nome è un'evoluzione dell'attuale Lamborghini Huracan GT3 che ha avuto molto successo in questi primi anni iniziali nella quale abbiamo gareggiato con questa vettura, sia a livello nazionale che a livello internazionale, focalizzandoci appunto sulla nostra nuova macchina, vedendo dalla parte, dal di fuori insomma si vede chiaramente che sono state fatte diverse modifiche sia a livello di meccanica che a livello di aerodinamica, se ci focalizziamo sull'aerodinamica si vede che è cambiato il bumper anteriore, ha una forma leggermente diversa, soprattutto la parte bassa dello splitter, con una forma diversa, molto più accentuata, con l'obiettivo diciamo chiaro per noi era quello di chiaramente aumentare il carico aerodinamico ma allo stesso tempo shiftare un po' il carico aerodinamico sull'avantreno, sulla parte anteriore, sull'assa anteriore della vettura che era un po', che mancava un po' nella variante precedente della Lamborghini Huracan, quindi siamo andati a focalizzarci soprattutto con l'obiettivo di rendere la macchina più guidabile, migliorare la guidabilità non soltanto per i piloti professionisti, ma soprattutto anche per i piloti gentleman, per i gentleman drivers che guidano le nostre vetture, quindi siamo andati a focalizzarci nel miglioramento dell'aerodinamica e della meccanica, perché le due cose chiaramente vanno sempre insieme e sono molto importanti, abbiamo accennato prima lo splitter, si vede anche il flick anteriore, è diverso rispetto alla macchina precedente, abbiamo un cofano anche con una forma diversa per migliorare anche il cooling, e se ci spostiamo verso la parte posteriore della vettura, soprattutto è cambiato tanto anche il fondo della vettura e arrivando si vede qui un'ala posteriore che a vederla così sembra simile, però è cambiata un po' a livello di forme per fare sì che l'aerodinamica nuova abbia un senso e se ci spostiamo con la telecamera nella parte bassa vediamo il diffusore che ha anche esso una forma diversa che va a distinguersi dalla vettura precedente. Questa era la parte aerodinamica, adesso parleremo un po' della meccanica, dove è Marco? Passiamo a Marco, tu pensi, ecco c'è un estrattore nuovo, hai detto il fondo, naturalmente il fondo non si può vedere, ma il grosso del lavoro sul fondo è stato fatto. Sì, assolutamente, come ho detto prima, appunto l'aerodinamica a livello visivo si vedono degli elementi che sono cambiati rispetto alla vettura precedente, ma quello che fa la differenza è quando la guidi, quando guidi la vettura senti che l'aerodinamica lavora in un altro modo e rende la macchina più omogenea e più facile da guidare. Abbiamo parlato della visione di questa vettura esterna, ma c'è un cuore nuovo, c'è un motore che ha ricevuto parecchie migliorie, ci sono ammortizzatori diversi, quindi anche la meccanica e i cinematismi delle sospensioni sono un poco cambiati, Marco. Sì, abbiamo modificato gran parte della parte meccanica, sempre, per come diceva giustamente Mirko, bisogna migliorare la guidabilità della macchina, una macchina che deve fare le gare di durata, deve fare le gare sprint, quindi deve essere facile da portare sia per un'ora che per 24. Ovviamente la macchina di prima era molto veloce, era molto sensibile però ovviamente ai cambi di clima, ai cambi di temperatura e soprattutto per i gentlemen era diventata a un livello un pochettino troppo elevato. Con questa macchina abbiamo cercato di alzare l'asticella della prestazione, però alzare di più ancora l'asticella della guidabilità, quindi per tutti i gentlemen sicuramente un passo avanti. Come dicevi tu, il motore è stato modificato perché c'è stato un upgrade per cercare ovviamente in assoluto di migliorare sempre quelle che sono le nostre prestazioni. È stata migliorata la cinematica delle sospensioni, sempre per andare nella direzione di migliorare l'utilizzo della gomma, diminuire il decadimento. Insomma abbiamo fatto tanti chilometri, Mirko sa che anche di recente abbiamo fatto un test lungo parecchie ore, più di 24, non abbiamo avuto problemi, quindi insomma puntiamo molto su questa macchina. Mirko, molti concorrenti, molte altre aziende che costruiscono vetture GT3 hanno, mettiamo vetture molto facili per i piloti gentlemen, non facciamo i nomi della marca, ma quando sale il professionista fatica parecchio ad abbassare, a trovare il decimo poi per partire realmente davanti. Questo pericolo è scongiurato con la Lambo? Ma io credo che qualsiasi macchina a livello di setup puoi comunque lavorare e cercare di adattare la vettura alle proprie caratteristiche di guida per estrarre il massimo. È chiaro che come diceva Marco prima, guardando noi, perché chiaramente non posso parlare per gli altri, guardando noi la vettura precedente appunto era un po' in determinate situazioni era un po' difficile, soprattutto per piloti appunto gentlemen, quindi l'obiettivo qui è stato appunto quello di renderla tra virgolette più facile, più guidabile per i gentlemen driver, ma allo stesso tempo, tornando alla tua domanda, dipende tanto dal lavoro che si fa anche nel weekend di gara con la squadra con la quale partecipi, con la quale si corre, cercare di trovare l'assetto giusto perché la competitività nelle categorie dove corriamo noi è molto alta, sono tantissime macchine, tantissimi piloti raggruppati in dei gap molto molto ristretti, quindi il decimo, il centesimo veramente può fare la differenza tra vincere e vincere e neanche andare a podio o neanche entrare in top ten, quindi è molto importante il lavoro che si fa con la squadra e chiaramente anche con i propri compagni di squadra che poi guidano la stessa vettura perché non è soltanto concentrato su un pilota ma deve essere un pacchetto che vada bene anche per altri piloti che la guidano insieme a te e questo è quello che poi fai nel weekend di gara o nei test per preparare stagioni, chiaramente in fase di sviluppo ci si focalizza più ad avere un pacchetto che vada bene per diversi tipi di piloti e che sia un pacchetto positivo e guidabile soprattutto. Marco, quanti test svolgerete su questa vettura in attesa del debutto ufficiale che sarà la prossima 24 ore di Daytona del campionato IMSA? Il debutto è adesso, quindi in realtà i test li abbiamo fatti nell'arco dell'ultimo anno e più sicuramente abbiamo ancora una parte dello sviluppo da fare però in realtà il grosso è stato fatto poi è un customer racing il GT3 quindi in realtà la palla o la patata bollente viene data al team da gestire, da sviluppare in base alle proprie necessità, in base ai campionati, in base alle condizioni perché ovviamente nel mondo il GT3 corre in condizioni talmente differenti che non c'è mai una regola fissa per cui noi diamo delle indicazioni, cerchiamo di fare un prodotto che sia più gestibile possibile e poi dopo il team, come diceva giustamente Mirko, il team con i piloti nella fase di preparazione all'evento devono cercare di renderselo come un abito che vada bene per loro. Grazie